Radio 1 Toronto presenta Claudio Baglioni in concerto 6 e 7 ottobre Roy Thompson Hall Toronto 8 ottobre Foxwoods Resort in Casino Connecticut 12 ottobre Plus Desarts Montreal 13 e 14 ottobre Tropicana Casino Resort Atlantic City Per biglietti Foxwoods 1 800 200 28 82 Ticketmaster oppure Radio 1 905 850 4455 5455